Anche il mondo della giostra del Saracino darà il suo contributo alla donazione di sangue. Dal 17 al 22 giugno torna infatti la settimana della donazione promossa dai quattro quartieri cittadini e vedrà i quartieristi impegnati nella donazione di sangue presso il centro trasfusionale del San Donato in collaborazione con l'azienda sanitaria Elavis. L'iniziativa, oltre a sensibilizzare i giovani e i potenziali donatori, ha come obiettivo anche quello di promuovere i corretti stili di vita e l'abitudine all'aiuto e alla socializzazione attraverso un gesto semplice ma essenziale come la donazione di sangue. I centri trasfusionali sono presenti in tutta la provincia, Valdarno, Casentino, Valtiberina e Valdichiana. Si può donare tra i 18 e i 60 anni, si può iniziare l'attività di donazione prenotando la prima visita sia attraverso le associazioni di volontariato sia direttamente ai centri trasfusionali.